Un saluto a tutti gli amici di motori di lusso. Oggi parleremo di una vettura elegante e pregna di carattere, ovvero la nuova Bentley Continental GT Speed. Andiamo a scoprirla insieme. Un trionfo di carattere. Si può riassumere così la nuova Bentley Continental GT Speed che porta al debutto numerose novità, tra cui le quattro ruote sterzanti. Si parte dal motore, un doppio V12 biturbo da 6 litri da 659 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia che, anche grazie ad una trasmissione doppia frizione a 8 rapporti aggiornata, consente di bruciare lo 0-100 in 3,6 secondi e di raggiungere 335 km orari di velocità massima. Rivisitati anche sospensioni e sterzo, mentre la funzione Bentley Dynamic Ride, insieme a un differenziale a slittamento limitato, riduce il rollio tramite un sistema elettronico a 48V. Griglia anteriore, minigonne e prese d'aria si vestono di una finitura dark tint e il badge speed campeggia su numerose componenti. Al debutto i cerchi da 22 pollici, mentre l'abitacolo permette di osservare rivestimenti in pelle e alcantara, oltre a numerosissimi inserti in fibra di carbonio. Arriverà sul mercato entro fine anno. La state già sognando? Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.